Buongiorno a tutti, Mastro Maestro o semplicemente David Lynch. Questo significa che è sempre quella giornata veramente mite con questi giorni in questo periodo. Anche se comunque leggermente più fresca, oggi pensavo, innanzitutto spero che ha visto il video del breve frammento video e le mie congratulazioni per il raggiungimento dei suoi mille video. Altro ieri, sabato, sul Day of the Lynch Theater, sul suo canale, eventualmente mi congratulo di nuovo. So, all my congratulations to this great, questo grande risultato. La sua età non è mica semplice, comunque mantenersi ancora così attivi. Credo che in questo, come sempre, nella sua carriera, la meditazione trascendentale abbia sempre aiutata a realizzare tutto quello che ha realizzato. Prima o poi la devo provare anch'io, perché non l'ho mai provata, ma già io comunque faccio molte cose interessanti. Però la mia giornata si riempie sempre, i miei progetti, eccetera, eccetera. Certamente la meditazione, probabilmente, mi aiuterebbe a risolvere i miei conflitti interiori. Certamente prima o poi la proverò. La proverò. E poi, pensavo al fatto che dovrei caricare due pezzi, con molto ritardo, per l'anniversario, il 29esimo anniversario di mia madre e mio padre, di matrimonio. Di mia madre e mio padre, che è stato, diciamo, domenica scorsa, 17 ottobre, appunto, con molti giorni di ritardo, più nella settimana, perché comunque nel frattempo ho dovuto caricare altri pezzi, appunto, alla mia tastiera, sono andati alla mia tastiera, però credo che massimo domani caricherò questi due pezzi, che dovrebbero essere rispettivamente il main theme della fiction italiana Capri, di cui tra l'altro festeggiamo i 15 anni, il 15 ottobre, quindi pochi giorni fa, appunto, decine di giorni fa, dieci giorni fa, abbiamo festeggiato i 15 anni della messa in un del primo episodio, una grande fiction italiana, secondo me, di 15 anni fa, appunto, con un grande cast, e poi l'aria sulla quarta corda di Bach, ma perché la scelta di questi due pezzi, poi se lo spiego meglio in descrizione, poi pensavo al fatto che il mio Napoli, appunto, ieri in realtà non ha rispettato il suo numero, che è uscito ieri, che è stato l'otto, ma comunque abbiamo poi interrotto la serie positiva di vittorie consecutive, quindi ci siamo fermati a otto, finisce così il record, è guaiato sul record il Mr. Sarri tre anni fa, ma comunque, un grandissimo parigi, la partita non era affatto semplice, magari anche che scrivo qualche altra cosa in descrizione, se ho tempo, e poi oggi, se non ero, sono anche tre mesi, dalla ex a questo punto, Sheve Dead, perché credo proprio che ormai i capelli sono, insomma, medio lunghi, quindi ormai dovrei proprio abbandonare questo fatto della Sheve Dead, anche se tre mesi fa era una Sheve Dead, tagliata per lui, anche per me, magari inserisco il nuovo link del vino nel processo del taglio, per chi fosse interessato, forse farò anche, caricherò anche un breve spezzone di confronto tra i capelli, appunto, tre mesi fa con adesso, e se mi è sfuggita qualche altra cosa, ma non credo, ma per oggi è tutto, magari la giungo in descrizione. Anyway, as you just see, from the window, today, we don't have those beautiful, the skies, and all the sunshine, so, as yesterday, and these days, it's totally cloudy, and totally grey, atmosphere, and credo sempre che potrebbe piovere, le prossime ore, ieri si è mantenuto, non ha piovuto, comunque il tempo è molto minaccioso, credo comunque che ho bisogno di accendere la luce anch'io, un po' troppo oscuro, direi, ovviamente questa è sempre una luce artificiale, la classica lampadina, non una luce costruita da me, so, but as always, we will see, say this, from the mythical window, with the colored curtain, it's beautiful but dark, obviously, colored curtain, today, behind me, and it's, green, roller shooter, aperta ma, comunque adesso, inquadra come sempre, and finally, from my mythical keyboard, Yamaha, DGX, 640, IPG, 625, have a great day, him, Krabba Locker, Sarah, Manca, Yusuf, sempre grandi saluti a lui, follower assoluto, seguaci assoluto, Douglas, Molly, Patrick, Musidora, e poi, anche quegli altri, di cui non so il nome, o forse non mi ricordo, comunque tutti, so, again, him, all these people, have a great day, and everyone too, and then, there's no limholm, a good day! Thank you! Thank you!